Nel Terramano il comune di Sant'Egidio alla Vibrata torna in zona rossa. Il presidente della regione Marco Marsilio, visto i dati sui contagi nel comune Vibratiano, 37 nuovi positivi la scorsa settimana a fronte di una soglia di rischio di 24, non ha potuto che far tornare Sant'Egidio in zona rossa fino al 20 maggio salvo diverse decisioni. Situazione che ha suscitato rabbia in città, specialmente visto che si ha il sospetto che il tutto sia scaturito da una festa privata di due sabati fa. Sì, stamattina ho ricevuto decine di telefonate da parte soprattutto dei commercianti, quelli che poi sono maggiormente colpiti per il fatto che c'era stata una piccola ripresa, c'era speranza che si tornasse alla normalità, ma ciò purtroppo non è stato. Io ho parlato con la direzione sanitaria, ma tra l'altro loro sono obbligati comunque a comunicare i numeri. La settimana scorsa, che comprende comunque il primo e il due maggio, che sarebbe stato sabato della settimana scorsa e domenica, si parla che poi l'ho pure accertato tramite ragazzini che sono stati comunque contagiati e anche sono oggi positivi, per colpo di qualche cena in più, insomma purtroppo è vero che bisognerebbe avere più controlli. Il problema pure è che le forze dell'ordine possono andare casa per casa a vedere quello che succede a casa. Domani, che è mercoledì, sembra che ci sia un incontro governo-regioni per rivedere questo RT, perché lo vedo assurdo che comunque Sant'Egidio, che è un piccolo comune della provincia di Teramo, sia rosso, ma io dico pure come controlliamo i nostri cittadini se escono fuori dal comune o se entrano nel comune. Adesso questi dieci giorni ce li siamo boccati, fino al 20 di maggio. Siamo la pecora nera, ma credo però che questo RT vada calcolato almeno a livello provinciale, non a livello di comune. Faccio per dire comuni che hanno 200 residenti, lì basta 2-3 persone che si contagiano, in pratica va in zona rossa, ma che mi rappresenta un comune con 500-300 abitanti entrare in zona rossa circondato da tutti i comuni che stanno intorno, che sono in zona gialla, che sono in zona rossa circondato da tutti i comuni che stanno intorno,